Comunque ragazzoni miei secondo me ogni tanto ci sta a fare un pochino di terapia di gruppo nel senso che come banalmente avrete intuito dal titolo se avete bisogno, voglia, intenzione insomma quello che è di sfogarvi cliccate qui perché oggi dico la verità ho letto un'intervista che non dico mi abbia fatto girare i maroni però mi ha fatto fare un sorrisino ironico molto ironico se mi posso permettere in tutta sincerità che riguarda il procuratore, la gente di Daniele Rugani perché ogni tanto torna a parlare, torna a parlare giustamente a difesa del suo assistito e onestamente qui del senso ci mancherebbe altro che non sia così, fa a tutti gli effetti parte del suo lavoro tutelare l'immagine e la professionalità del giocatore che quella comunque indubbiamente non manca perché a Daniele Rugani si possono dire tante cose tranne che non sia un professionista sotto ogni punto di vista allo stesso tempo però sappiamo a grandi linee tutti quanti che può sempre succedere di tutto nel momento in cui scendi in campo ma non è neanche troppo colpa sua se gli viene chiesto di fare proprio nel periodo clou e nelle partite clou della stagione contro squadre di un livello abbastanza importante ma non siamo qui onestamente in questo momento a parlare di questo ma a soffermarci più che altro su quelli che sono due o tre passaggi all'interno di questa intervista fatta alla gente di Daniele Rugani perché se mi si viene a dire che non si fanno 100 partite alla Juventus per caso io do ragione perché indubbiamente per caso non le fai allo stesso tempo c'è da dire che non è che ne abbia fatte 100 alla Juventus perché è un giocatore imprescindibile per la Juventus e perché forse purtroppo agli albori era stato fatto un errore di valutazione anzi in realtà neanche troppo perché indubbiamente tutti quanti avevamo delle aspettative superiori rispetto a quello che è l'attuale Rugani e rispetto a quello che è stato il percorso fino ad oggi di Daniele Rugani alla Juventus quando lo vedevamo all'opera nell'Empoli di Sarri era un giocatore giovane, bravo, col vizio del gol cosa che comunque ha abbastanza avuto anche alla Juventus considerando il numero di partite che ha effettivamente giocato il vizio del gol l'ha sempre avuto ma vabbè il problema però è che queste aspettative non è che siano state rispettate solo che il problema principale qual è? che se queste aspettative le alimenti con 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione sta a significare che nel momento in cui magari il giocatore in questione non si dimostra all'altezza delle aspettative e di conseguenza non si dimostra neanche un giocatore da quelle cifre per quanto riguarda lo stipendio nel momento in cui tu magari dici alt abbiamo fatto una cazzata proviamo a piazzare Daniele Rugani considerando che ci potrebbero essere squadre intenzionate a prenderlo non ce la fai non ce la fai perché squadre del livello di Daniele Rugani si possono tradurre come squadre di media bassa classifica a grandi linee e squadre di media bassa classifica garantiscono a Daniele Rugani uno stipendio di 3 milioni e mezzo con tutto il bene del mondo quindi viene da sé che per forza di cose tu ti trovi anche in un qualche modo costretto a tenerlo o anche perché magari lo consideri un quarto o quinto difensore centrale che ci sta io posso dare anche ragione a questo ragionamento il problema però come detto prima è che se poi puntualmente le partite clou te le va sempre a giocare significa che forse un problemino di fondo sotto sotto c'è e una testimonianza abbastanza recente di queste parole potrebbe anche essere che nell'anno di Pirlo se non sbaglio sì Pirlo il giocatore è stato ceduto in prestito prima in Francia e poi al Cagliari in due squadre che insomma ne che ambiscano proprio a traguardi particolarmente prestigiosi e l'esito qual è stato mezza stagione in una squadra che poi l'ha sfanculato mezza stagione dall'altra squadra che poi l'ha sfanculato e Dulcis in fundus te lo sei ritrovato te quindi non si fanno per caso cento presenze e posso dare indubbiamente ragione magari potessi farle io cento presenze con la Juve ci baccherebbe però ci stanno magari degli errori di valutazione che ti portano ad ipervalutare quattomeno sotto l'aspetto dello stipendio un determinato giocatore come in questo caso appunto Daniele Rugani poi altra cosa la BBC l'ha messo un pochino in ombra adesso indubbiamente gli ultimi dieci anni con la BBC ci hanno fatto sognare probabilmente per qualche stagione la BBC è stata una delle difese più forti d'Europa sono completamente d'accordo Barzagli, Bonucci, Chiellini dei tempi d'oro soprattutto Bonucci in questo caso dato che gli altri uno si è ritirato l'altro in America ce li sogniamo ce li sogniamo pregheremmo probabilmente tutti quanti il Signore per ritornare ad avere quella difesa lì e sono d'accordo sicuramente una difesa che non dà particolare spazio soprattutto quando ti riesci a garantire una certa continuità a livello fisico e soprattutto poi di rendimento posso essere d'accordo però anche meno nel senso bisogna anche dimostrare di essere all'altezza della BBC e potersi giocare il posto con quelli della BBC e con tutto il bene io non penso che Rugani sia stato neanche mai vagamente all'altezza di poter fare un lavoro del genere quindi con tutto il bene anche meno anche perché se fosse stato così Barzagli si è ritirato quando è? nel 2019 Bonucci nell'ultimo periodo ha avuto no Bonucci Chiellini soprattutto ha avuto negli ultimi anni diversi problemi che l'hanno tenuto fuori anche per diverso tempo recentissimamente anche Bonucci ma proprio gli ultimi due anni da un punto di vista fisico che l'hanno costretto a rimanere fuori dal campo per un periodo di tempo importante quindi in caso se queste capacità questo talento e questa possibilità di emergere effettivamente c'era c'è da dire che potenzialmente avrebbe avuto anche diverso tempo e diverse possibilità per guadagnarsi questo posto per non farsi poi noi in un futuro oscurare dalla BBC cosa che invece non è mai avvenuta e non perché poi magari si è andato a prendere De Ligt e si è andato a prendere Bremer Romero e De Miral vabbè Romero non l'abbiamo mai visto con la maglia della Juventus però gli altri tre sì e perché evidentemente non era all'altezza poi ha voglia di stare qui a dire eh vabbè la BBC l'ha un pochino oscurato cazzo era una delle difese più forti al mondo quando ha avuto le possibilità di dimostrare durante il periodo della BBC ha effettivamente dimostrato a me pare di no a me pare di no poi se mi dici la Juventus non fa beneficenza io sono d'accordo magari non era nelle intenzioni è stata forse un pochino masochista assecondata anche da degli errori di valutazione che hanno portato a overpagare un giocatore e poi di conseguenza tu non ti sei più riuscito a liberare di questo giocatore poi se magari per una serie di motivi lo ritenevi ideale per ricoprire il quarto o quinto slot per quanto riguarda i difensori centrali per quanto lo stipendio sia decisamente esagerato per uno che può ricoprire quel ruolo posso essere anche d'accordo quei soldi non li tiro fuori io però i motivi per il quale Daniele Rugani sia in questa situazione di Juventus beh penso sia abbastanza chiaro a tutti poi capisco tu devi difendere gli interessi e il bene del tuo assistito ci mancherebbe altro poi però insomma io sono dall'altra parte della facciata diciamo io capisco il tuo punto di vista però esprimo il mio pensiero a riguardo voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve chan-chan-chan chan-chan 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 Ciao!